ciao ragazzi allora a dire il vero oggi avevo in agenda di dovervi parlare qual è il motivo principale per il quale nei prossimi mesi noi avremo ai 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 vedete oggi la mia pasqua la passo con loro guarda mar che disastro mi vogliono mangiare la mia asta tutto quanto bene si sono tranquillizzati vi avevo in programma di parlarvi qual è il motivo principale per il quale noi vedremo in questi mesi avvenire il crescere esasperato della delinquenza però poi ci ho pensato bene siccome domani sera parleremo già proprio di quello alle ore 19 sulla mia pagina ezzo dei cani dove inviterò un esperto proprio di strategie di difesa e che parleremo in diretta con voi oggi vi voglio solo dire forse potrebbe essere conveniente per voi iniziare a ragionare qualora abbiate una casa singola con giardino di non adottare solo più cani perché vi piacciono gli animali perché vi piace il loro affetto perché i cani ci riempiono la vita ma adottarli anche perché possano dico perlomeno contribuire a farci vivere più al sicuro e farci vivere più sereniche perché poi in realtà con i miei cani da guardia io ho cresciuto le mie figlie e se voi seguite i miei filmati vedete di con guardate con quante leccate loro e ci coprono tutta la giornata quindi vi dico solo quello come riflessione come riflessione pasquale però si troppo belli tutti e due come riflessione pasquale siccome andremo in un periodo che potremmo poi trovarci ad incontrare magari degli spiacevoli inconvenienti iniziare a pensare che laggiù dove abbiamo solo cani la compagnia non sarebbe male metterne anche uno che possa come dire occuparsi un po del nostro territorio ed eventualmente difenderci in caso di bisogno se dovessimo adottare dei cani ebbene una grande compagnia un grande affetto lo danno anche questi cani da guardia e non avete idea quanto sono utili e quando potranno quanto potranno tornarci comodo nei prossimi mesi bene allora vi aspetto oggi alle ore 14 per la mia diretta dove vi spiegherò il perché non bisogna mai picchiare i cani neanche piano neanche solo col giornale neanche una scolacciatina neanche solamente così una piccola sberla come tanti vi hanno sempre insegnato ma non solo non bisogna neanche mai sgridarli io non ho mai sgridato i cani una sola volta nella mia vita e c'è un motivo ben preciso ma ve lo spiegherò oggi alle ore 14 su questa pagina ezio dei cani cani da guardia e sicurezza e poi stasera vi do di nuovo un appuntamento al solito nostro incontro sulla pagina ezio dei cani dove non parliamo di cani ma cerchiamo di aiutarci un po col contributo di tutti a passare meglio questi giornate queste giornate di reclusione forzata bene che arrivino a tutti voi i miei più spontanei come dire sereni auguri di buona pasqua a tutti a presto ciao